Tutte le volte che noi ci lamentiamo di qualche cosa, continuiamo a pensare che la politica sia quella dimensione in cui si manifestano i problemi che altre dimensioni non riescono a risolvere e nella politica quei problemi si manifestano e noi crediamo che lì, a certe condizioni e sotto certi profili, lì quei problemi possono essere cambiati, modificati o addirittura risolti. Noi diamo sempre un'interpretazione creatrice della politica, nella nostra testa c'è questo, non ci riusciamo a dire che politica è il semplice fatto che siamo nati insieme e non abbiamo da fare altro che essere laboriosi sperando di ottemperare così al debito che abbiamo verso i nostri antenati e sperando che il potere centrale sia illuminato e ci tratti bene e ci faccia progredire materialmente tutti quanti. Noi non siamo così, non siamo migliori o peggiori, semplicemente abbiamo alle spalle una tradizione di così marcata questa instabilità, accompagnata dalla riflessione filosofico-religiosa di tale potenza tutta costruttivistica, tutta costruttivistica, a partire da Platone che pensa che con la filosofia si cambia il mondo. Questo è un concetto che gli orientali non hanno, perché non hanno la filosofia come la pensiamo noi, e perché non pensano che il mondo debba essere cambiato. Tutto ciò dice ma questa roba vecchia non c'è più, no, noi nella testa abbiamo ancora questo, certamente vogliamo anche noi il buon governo, ma vogliamo anche di più, mentre vogliamo il buon governo lo vogliamo, attraverso questo apparato concettuale, attraverso questo. E questo è un apparato categoriale molto impegnativo che, guardate, non è la scienza. Noi abbiamo anche come grosso patrimonio la tecnoscienza, l'abbiamo inventata noi, ci ha dato un breve periodo di supremazia sul resto del mondo. Quello che sto dicendo è un'altra cosa, no? Non è il privilegio della tecnoscienza che infatti abbiamo poi bene o male condiviso, dovuto condividere con tutto il mondo. Abbiamo questa strana malattia mentale per cui pensiamo che dobbiamo essere, abbiamo lo spirito faustiano, dobbiamo essere capaci di plasmare il mondo. Plasmare il mondo è uno sport tipicamente occidentale. Abitare laboriosamente il mondo è uno sport tipicamente cinese. Tanto perché la Cina è importante, poi soprattutto perché la Cina non deve essere identificata come il nemico, perché qui abbiamo un ritorno di occidentalismo minoritariamente antirusso e maggioritariamente anticinese. È un errore di una stupidaggine totale. Noi non dobbiamo ragionare di Cina con categorie nostre, o meglio, siamo costretti a ragionare di Cina con categorie nostre, ma dobbiamo capire che è una civiltà diversa dalla nostra, che non è per niente una civiltà inferiore, anzi, se c'è qualche cosa è che spesso sono loro che pensano che la civiltà inferiore siamo noi, perché siamo instabili, e dobbiamo imparare a rispettarci tutti quanti. Proprio rispettare le differenze strategiche rispetto allo stare al mondo. E dunque dobbiamo studiare. Dobbiamo studiare, capire chi siamo, che cosa vogliamo noi, e che cosa vogliono loro, che sono così diversi da noi come noi siamo così diversi da loro, e non c'è alcun motivo per cui non ci si possa stare tutti quanti al mondo. Ecco, l'idea che dobbiamo arrivare a capire chi comanda e chi obbedisce è un'idea infantile, ignorante e naturalmente pericolosissima.